Strage di tartarughe in Mar Piccolo a Taranto Questa è l'ultima tartaruga caretta caretta ritrovata nelle acque del Mar Piccolo a Taranto In questa foto si nota che non è rimasta impigliata in una rete da pesca ma aveva ad una pinna un cappio e un chiaro segno di violenza per mano dell'uomo Per tanti pescatori che non ci dovrebbero essere dentro Mar Piccolo le tartarughe sono da fastidio perché vanno a mangiare i pesci che prendono nelle reti i pescatori per dispetto le ammazzano Questa tartaruga invece è morta con un colpo di remo inferto sulla testa poi legata al masso di tuffo per farne sparire la carcassa e questa infine è stata decapitata e allora perché accanirsi contro indifese tartarughe marine? Si tratta di rettili in via di estinzione soprattutto nelle acque italiane Chi deve controllare? Le istituzioni dovrebbero dare disposizione a noi come associazione altre associazioni per poter tutelare il nostro ambiente e tutelare soprattutto la specie Questa strage bisogna fermarla assolutamente Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!